Sabato 2 agosto si è svolto al Virgilio Fedini il primo test stagionale della San Giovannese, battuta per 1-0 dalla Fortis Borgo San Lorenzo, al termine della prima settimana di preparazione. A questo punto della stagione dare giudizi sulla squadra è eccessivo, viste le gambe appesantite dai robusti carichi di lavoro, ma è comunque possibile fare alcune considerazioni sulla prima uscita dei ragazzi di Mister Benedetti. Nonostante tanti siano i nuovi acquisti tra le fila della San Giov, alla ricerca dell'amalgama giusta tra i giocatori esperti e i molti giovani di cui quest'anno è composta la rosa, gli azzurri hanno disputato un buon primo tempo, tenendo bene il campo e creando anche alcune palle gol. Discreta nel primo tempo anche la fase difensiva, piegata soltanto da un euro-goal di Mbunga al tredicesimo del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, come di consueto nelle amichevoli estive, Mister Benedetti cambia tutta la squadra, venendo così meno un po' di distanze tra i reparti. Da sottolineare comunque il grande spirito di sacrificio e di abnegazione della linea verde della Sangio, che nel secondo tempo ha messo in mostra ottime individualità. Oggi sono ripresi gli allenamenti, dopo la domenica di riposo, all'inizio di una settimana di lavoro in cui lo staff tecnico inizierà ad insistere di più sul piano tattico. Bilancio positivo quindi al termine della prima uscita ufficiale. La strada intrapresa è quella giusta, verso una stagione in Serie D che si preannuncia come una sfida difficile ma anche esaltante.